Gianluca Magni E capita praticamente, io credo, a Fagiolo perché adesso da attore Gianluca io ti chiedo un'impressione, tanto avete già votato? Avete finito? Quindi posso fare questa domanda Tu, da attore, come l'hai sentita questa canzone? Perché è più forse una colonna sonora Un tuo parere Allora, questa è una grande verità messa sotto forma di canzone Chi l'ha cantata ci ha messo veramente il cuore, la sentiva Si vede che è un argomento che lo ha toccato Sono stati fatti da attore tanti film, tanti li faranno È una realtà, non solo italiana, è una realtà mondiale La mafia, credo che... ma sarà difficile sconfiggerla Non dico impossibile, ma sai c'è sempre una speranza nella vita L'uomo deve sempre sperare, però... E sono valide tutte le iniziative che appunto contrastano l'atteggiamento mafioso Adesso però veniamo a te, veniamo al tuo personaggio Cosa hai fatto? Cosa stai facendo? E che cosa hai per il futuro? Allora, intanto ti ringrazio di avermi invitato a questa bellissima Kermess Ho sentito dell'ottima musica, degli ottimi interpreti E mi hanno fatto vivere delle belle emozioni Perché ricordatevi che in un periodo così difficile della nostra vita Dove delle grandi forze tentano di sterzare il mondo In situazioni diciamo molto particolari L'arte di qualsiasi genere e l'amore per noi stessi salverà il mondo Perché nel periodo del Covid, quando siamo stati chiusi Se non ci fosse stato l'arte, gli artisti, le persone a casa Senza leggere un libro, ascoltare la musica, guardare un film Cosa avrebbero fatto? Sono d'accordissimo con te Gianluca Allora dico, in questo momento particolare della nostra vita Dico di ritornare alle tradizioni Ritornare ai valori Di non vivere di ego Perché i social hanno tirato fuori l'ego malato delle persone Si vive per i like, si vive per apparire Si vive per avere un like più degli altri Ma è tutta un'illusione Perché i grandi artisti, le grandi persone Sono persone che vivono di amore, di forti passioni Che vivono la vita, vivono un semplice temporale Camminare sotto la pioggia, scambiare due parole Oggi abbiamo perso il senso della vita Non si comunica più, ci troviamo su Whatsapp Non si fa più una telefonata Nessuno ti riceve più In un mondo così tecnologicamente sviluppato Sta scivolando via il senso della vita La comunicazione tra noi stessi E questa è una cosa che noi dobbiamo combattere E non ci dobbiamo fare vincere da questo modo Che qualcuno ci vuole indirizzare Come diciamo una sorta di gregge Io lo chiamo il transumanesimo Noi abbiamo la forza per combattere Abbiamo la forza per cambiare Ma non ci dobbiamo identificare noi stessi Non ci dobbiamo fare vincere dai personaggi del momento Che vogliamo emulare, imitare Dobbiamo la forza, anche rimanendo antipatici Specialmente non artisti Se vogliamo essere persone di successo Di portare un'identità Di non avere paura a essere noi stessi E di vivere, vivete la vita Amate, vivete, donate Perché la vita è donare amore, sensazioni e sentimento Non è stare sui social E stasera questo tema è stato toccato Da tanti brani in concorso Un po' di breve di me della mia carriera Io ho iniziato negli anni 90 Il mio primo film è stato Lucrezia Borgia Sono andato in una produzione Studiavo al Centro Teatro Attivo di Milano Una mia amica mi disse Guarda c'è un regista, vai a nome mio Mi guardò, chiamò l'aiuto regista e disse Sto ragazzo, avevo poco più di 20 anni Potrebbe fare il mio suo pale Quello che portava le missive del Papa Borgia A cavallo Tu sai andare a cavallo? E gli disse Cavolo se ci sai andare Non c'ero mai montato Perché se vuoi fare l'attore Ti devi buttare Quell'occasione se non l'avessi sfruttata io L'avrebbe preso un'altra persona Allora io ho iniziato Sono montato su un cavallo Ho fatto due giri Ho galoppato Ho detto se va va, se non va Ma ci devi provare Andata, non sono caduto E ho iniziato la carriera Guarda che è successa La stessa cosa anche a me La prima volta a cavallo Allora Adesso Gianluca Qualche progetto per il futuro Cosa succederà a breve? Guarda, oggi Diciamo che è una bella giornata Perché sono qua A questa bellissima Diciamo alla finale Il primo Lucio Dalla E stasera andrò in onda Si può dire Perché una rete televisiva si può Sì, 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 sì Autorizzo Allora stasera No, io per rispetto Ci manca Diciamolo Allora stasera Alle 21.20 Andrò in onda Sui rete 4 In un bellissimo docufilm Si parla dell'antica Roma Dove interpreterò L'imperatore Adriano All'interno della trasmissione Freedom oltre i confine Condotta dal grande Roberto Giacobbo E niente Una bellissima cosa Poi vabbè Dei progetti Per il futuro Sarò Vabbè La prossima settimana Gira uno spot Uno spot televisivo Un film in cantiere Insomma Diciamo che ce n'è Sei abbastanza impegnato Sì Va bene Allora Ti congedo Grazie per essere stato con noi Grazie a te Un applauso A Maurizio Meri Perché è veramente Una brava persona E sei anche un bravo presentatore Tu le dici uno che In passato ha presentato Siamo mezzo colleghi Sì Sarà mai che un giorno Mi chiamino a fare l'attore Grazie Gianluca Magni